vi parlerò se parliamo di di altre cosmologie diciamo che quello che vi racconterò a che vedere con il Copernicanesimo di Galileo soprattutto iniziale in qualche modo per diciamo così cercare di far capire come che sia una sorta di fraintendimento anche sotto il profilo storiografico di certa storiografia sostanzialmente cerchiamo di mostrare come per quanto possa sembrare ci sono stati alcuni studiosi che hanno affermato che Galileo per esempio non sono nel sedere ma persino nelle cosiddette lettere sulle macchie solare non è diciamo così un Copernicano dichiarato e quindi io cercherò di dimostrare quale fu l'atteggiamento effettivo di Galileo in questi due testi però prima di procedere in questa analisi voglio anche sottolineare che la questione copernicana è un filo rosso che attraversa tutta l'attività di ricerca di Galileo il Copernicanesimo è uno degli elementi forse quello più decisivo dell'ambizioso progetto di Galileo di fondare una nuova scienza in grado di unificare e spiegare sia i fenomeni celesti sia quelli terrestri e dunque piuttosto forviante voler tenere separate come spesso è stato fatto le ricerche gayleiane sul moto che caratterizzerebbero secondo questa interpretazione storiografica tutto il periodo padovano per intenderci dal 1592 al 1610 quindi soltanto l'ultima fase poi e poi invece il momento più dedicato alle ricerche astronomiche che viene a culminare con la pubblicazione del siderio sicuroso questa interpretazione è del tutto diciamo così forviante e certo e noi possiamo definire come ha scritto giustamente un grande studioso di Galileo Maurice Clavelen il copernicanesimo di Galileo prima della pubblicazione del siderio si vengono siccome un copernicanesimo silenzioso capriva ancora di quell'appassionato impegno che Galileo fa per la termazione della teoria copernicana però indubbiamente non si può negare come ormai ha sodato da diversi altri studi da Galluzzi a Camerota a Bucciantini ma anche prima Reik eccetera eccetera che fin da subito la nuova concezione del moto che ha Galileo è strettamente legata alla nuova cosmologia copernicana. Di conseguenza quando Galileo nella celebre lettera a Kepler del 4 agosto 1597 si dichiara un seguace della teoria erocentrica non era per esprimere come è stato sostenuto da Mario Biagiole una simpatia la chiama lui per l'ipotesi copernicana. Galileo in quella lettera definiva Copernico il nostro maestro e affermava che grazie alla teoria copernicana egli aveva scoperto sono per le sue le cause di molti fenomeni naturali che certamente nell'ipotesi corrente restano inesplicabili cioè nell'ipotesi geocentrica. Galileo affermava inoltre di aver scritto molte ragioni e molte computazioni degli argomenti contrari ed stava riferendo come è stato mostrato alle prove contro il moto della terra che erano state formulate da Tico Brahe in polemica con il copernicano Christophe Rothman ed erano contenute nelle epistole astronomiche pubblicate nel 1596. Un indizio importante che ci fa capire come negli anni padovani diversamente da quando si è sostenuto per Galileo cosmologia e meccanica fossero strettamente connesse. Galileo infatti era perfettamente consapevole che per sostituire la teoria del moto di Aristotele con la concezione del moto occorreva difendere l'ipotesi dei modi della terra dalle accuse di assurdità. Indizi importanti sull'impegno di Galileo a favore dell'ipotesi copernicana si trovano inoltre nelle sue ricerche sulla Nova del 1604. Galileo si dedicò a lungo allo studio della Nova dalle prime osservazioni dell'ottobre dello stesso anno con le lezioni che tenne a Padova nel dicembre seguente fino almeno al 1606. Galileo pensava che il fenomeno potesse avere un ruolo decisivo nella questione di sistema Temundi. Sosteneva che la causa del fenomeno era dovuta al moto rettilineo della Nova e che esso il fenomeno avesse la sua origine nelle salazioni terrestre illuminate dal sud. In una lettera del gennaio del 1305 a un corrispondente ignoto, Galileo oltre a manifestare la propria intenzione di scrivere un trattato sull'argomento, sottolineava che dalla sua interpretazione si aspettava grandissime conseguenze e conclusioni. Galileo non specificale quale fossero queste conseguenze e conclusioni. Tuttavia, dalle annotazioni che fa un testo di Pico Brahe, I progiminasmata, che vengono pubblicati posto, invece dopo la morte di Brahe, nel 2, Galileo fa queste annotazioni tra il 6 e il 7, scusate, tra il 1604 e il 1607, si riesce a intuire cosa arriva in mente. In una di queste annotazioni, Galileo riportava l'opinione dell'astronomo Elias Camerarius, il quale sosteneva anche lui il moto rettilineo della Nova del 72. Le tesi di Camerarius erano state confutate da Brahe, ma Galileo osservava che l'opinione di Camerarius poteva essere vera purché si riconoscesse il moto anno della Terra. A conferma che Galileo attribuisse un valore cosmologico all'apparizione della Nova, c'è un'altra annotazione dove Galileo trascriveva un moto passo tratto dalle naturali sequestioni di Seneca, in cui il filosofo stoico sottolineava come dall'esame dell'ecometo si poteva dedurre un eventuale moto della Terra intorno al proprio asse. Per Galileo, dunque, l'apparizione di fenomeni estemporanei come le comete o le nove poteva offrire importanti spunti per decidere sull'eventualità del moto terrestre. In tal senso si spiega la presenza tra le annotazioni di Galileo di due disegni, chiaramente copernicani, relativi alla Nova del 72. Come è noto, le ricerche di Galileo sulla Nova non produssero i risultati sperati, ma è innegabile che esse rappresentano una testimonianza del suo costante impegno nella questione copernicana. Stabilito dunque che per Galileo la opinione dei pitagonici e del copernico circa il moto essido della Terra, parole celebre che scrive in una lettera al suo amico maestro Jacopo Mazzoni il 30 maggio del 1597, era da lui considerata per assai, l'opinione dei pitagonici e del copernico, più probabile dell'altra di Aristotele e di Ptolomeo. Stabilito questo adesso posso prendere in considerazione la questione del copernicanesimo nel Siderius e nelle lettere sulle Marche avendo mostrato come, sebbene molto schematicamente, ma mi auguro che sia abbastanza, diciamo così, emerso chiaramente, come le ricerche di carattere cosmologico e quelle di carattere meccanico procedessero parallelamente durante il periodo in cui invece, secondo alcune ricostruzioni storiografiche, si sarebbe soltanto occupato di meccaniche. Arriviamo ad un altro punto adesso, perché è davvero difficile sostenere che nel Siderius inuntus Galileo non si dichiarasse esplicitamente a favore del copernicanesimo, anche qui a sostenerlo è sempre Mario Biagioli, speriamo che non gli fischino le orecchie. Si può infatti affermare che è esattamente il contrario, ossia che nel Siderius abbiamo la prima dichiarazione pubblica ed esplicita delle convinzioni cosmologiche di Galileo a favore del sistema copernico. Già nella lettera dedicatoria a Cosimo II de' Medici, spiegando al Gran Duca il valore dei quattro satelliti dedicati al suo casato, Galileo sottolineava che queste, mi sto citando dalla traduzione della Trimperano Cardini ovviamente, queste quattro stelle riservate al suo illusio nome, con molti tra loro diseguali, effettuano i loro corsi e giri con mirabile celerità intorno alla stella di Giove, di tutte le altre più nobile, quasi come la sua diretta progenie, nel tempo che tutte insieme ogni dodici anni compiono con un'anime concordia, grande rivoluzione intorno al centro del mondo, cioè intorno al sole stesso. Poi, nelle prime pagine, sempre del Siderius, quando De Leo elenca le grandi cose che egli proponeva nel suo piccolo trattato, per l'indagine e la contemplazione di ogni esploratore della natura, sono le prime parole con cui si apre il Siderius, Magna, Equida, Minach, Siguar, trattazione, eccetera, eccetera, ossia la scoperta dei satelliti di Giove, sottolineava di nuovo che questi satelliti, a somiglianza, sono parole di Gheleo, di Venere e di Mercurio intorno al sole, hanno i loro propri periodi intorno a una certa stella e ora la precedono, ora la seguono, senza mai allontanarsi da essa, fuori dei loro limiti determinati. Questa comparazione con Venere e Mercurio può sembrare ambigua, ma non lo è, se teniamo presente ciò che Gheleo scrisse a Benisaio Vinta, che era il segretario del Bon Duca di Toscana con cui intrattenere rapporti in quel periodo di scoperte anche per poi contrattare il passaggio da Padova a Firenze. Il 30 gennaio del 1610, quindi prima che pubblichi il Siderius, nell'annunciargli la scoperta dei satelliti di Giove, che avviene nelle prime settimane di gennaio, scrive, ho ritrovati quattro pianeti di nuovo e osservati i loro movimenti propri e particolari, differenti tra di loro e da tutti gli altri movimenti dell'altra stella e questi nuovi pianeti si muovono intorno ad un'altra stella molto grande, non altrimenti che si muovino Venere e Mercurio e per avventura gli altri pianeti conosciuti intorno al sole. La scoperta dei satelliti di Giove, inoltre, dimostrava che i muti dei corpi celesti potevano avere centri diversi dalla Terra. Uno degli argomenti, come è noto contro l'ipotesi copernicata, era infatti come fosse possibile che esistessero due centri di mutazione nell'universo. La risposta di Gaileo era chiara ed esplicita. Sono sue parole, abbiamo un ottimo ed eccellente argomento per togliere di scruppolo coloro che, pur accettando con animo tranquillo nel sistema copernicano la rivoluzione dei pianeti intorno al sole, sono però così turbati dalla rotazione della sua luna intorno alla Terra, mentre, intanto, ambedue compiono l'anno in giro intorno al sole da ritenere che si debba respingere questa struttura dell'universo come impossibile. Perché ora non abbiamo più un solo pianeta che ruota intorno all'altro, mentre ambedue percorrono una grande orbita intorno al sole, bensì quattro stelle, l'esperienza ci mostra il rank intorno a Giove, a somiglianza della Luna intorno alla Terra, mentre tutte insieme con Giove, nello spazio di 12 anni, tracciano un gran giro intorno al sole. Cioè non è più un argomento dire che la Terra non può girare intorno al sole essendo essa stessa centro di rotazione di un satellite, perché esiste un pianeta, Giove, per l'appunto, che ha quattro satelliti, quindi che a prescindere dal fatto che Giove possa girare intorno alla Terra o al sole, ha ben quattro satelliti che gli girano intorno. Quindi è un argomento privo di fondamento. Secondo Gaileo, dunque, i satelliti di Giove toglievano l'importante obiezione contro la teoria copernicana, poiché dimostravano che la nostra Luna poteva ruotare intorno a una Terra in movimento. Occorre inoltre sottolineare che nel manoscritto del Siderius, in un passo omesso dalla pubblicazione, quando Gaileo si riferisce al sistema copernicano, copernicano, aggiunge che io reputo il più in accordo con la verità, quando apprime verità di consulum ex tim. I passi che fin qui ho citato sono ben noti e riguardano tutte le conclusioni che Gaileo ricava dai satelliti di Giove. Ma c'è un altro passo, meno noto, almeno meno citato, ma che è molto importante, poiché qui Gaileo fa un'affermazione chiaramente copernicana in un contesto dove il riferimento al moto della Terra non era obbligatorio. E quando Gaileo, per far apparire più chiaramente la somiglianza tra la Luna e la Terra, spiega che la Luna e la Terra si illuminano a vicenda in base alla luce che ricevono dal Sole e che poi riflettono, afferma. E bastino queste poche cose dette qui su tale argomento che più diffusamente sarà trattato nel nostro sistema del mondo dove, con moltissimi ragionamenti ed esperimenti, si dimostra valida la riflessione solare operata dalla Terra a coloro che proclamano che essa, cioè la Terra, si deve escludere dal giro, dall'unzante delle stelle soprattutto per il motivo che sarebbe priva di moto e di luce perché noi dimostreremo che si muove e supera la Luna in brillantezza. Ovviamente, come è noto, con le novità celesti descritte nel Siderius Nuncius, Gaileo non possedeva una prova inconputabile della verità del sistema egliocente. Gaileo era tuttavia convinto che le sue novità celesti, soprattutto quella di Satelli di Giove, rappresentavano elementi decisivi per l'affermazione della verità del sistema copernicare. Le novità celesti di Gaileo inoltre demolivano la tradizionale convinzione che tra i corpi celesti come la Luna e quelli terrestri esistesse una differenza ontologica. L'esistenza di montagne sulla Luna dimostrava che questa distinzione non c'era affatto perché la Luna era composta della stessa materia della Terra. Non stupisce dunque che Gaileo, già nel Siderius, annunciasse la sua intenzione di scrivere un nuovo sistema del mondo, un suo sistema del mondo, che avrebbe fornito una visione d'insieme per spiegare la verità del copernicalesimo. Le implicazioni copernicane del Siderius d'altronde furono subito evidenti ai lettori dell'epoca e non solo a chi aveva le stesse convinzioni copernicane di Gaileo, come nel caso di Kepler o del suo discepolo Benedetto Castelli. Abbiamo infatti la preziosa testimonianza di un personaggio fino a poco tempo fa, dimenticato dalla storiografia gaileiana, ma che all'epoca non era affatto sconosciuto. E l'alto prelato Bonifacio Vannozzi da Pistoia, protonotario apostolico e futuro segretario di Paolo V. Ecco cosa scriveva Vannozzi da Firenze a un suo concittadino, al magistrato e letterato, Girolamo Baldinotti, e Vannozzi aveva assistito a quelle dimostrazioni che Gaileo faceva per i cortigiani, per i nobili fiorentini, quando ritorna, diciamo così, in parte a Firenze, e ovviamente ci fa capire che a maggior ragione non solo cercasse di mostrare ciò che si vedeva con il telescopio, non faceva campagna coperricana. Ecco cosa scriveva questo Vannozzi, Bonifacio Vannozzi, un personaggio singolare, al suo amico e magistrato Baldinotti. Dice, io, nel fatto di Gaileo, sono con vostra signoria e ogni buon teologo si riderà di chi dica davvero che la terra si muove e che il sole stia fermo. Sono cose dette altre volte per via di supposizione. Qui le parole sono importanti, cioè fa capire che si allinea a una interpretazione ipoteticistica della rivoluzione, Buss, secondo la nota lettera di Osiander che viene premessa ovviamente all'opera di Copernico. Non di verità. Che la luna sia terrea, con valli e colline, è tanto dire che vi sono degli armenti che vi pascono e dei bifolchi che la coltivano. Stiancene con la Chiesa, nemica delle novità da sfuggirsi secondo l'ammaestramento di San Paolo. Sono pensieri da belli ingegni, ma pericolosi, e io voglio essere anzi teosofo che filosofo, come mi parlo, che anche faccia vostra signoria in buona compagnia. Le posizioni di Vannozzi ovviamente non sono esolate, come dimostra il caso ben più noto dell'aristotelico Ludovico delle Colombe che tra il 1610 e gli inizi del 1611 gli scrisse un'opera significativamente intitolata Contro il moto della terra dove elencavano numerosi passi biblici contro il sistema copernicano. Si potrebbe obiettare che l'opera delle Colombe non fu pubblicata, ma è noto che l'opera ebbe ampia circolazione in manoscritta e che lo stesso Galileo l'avesse e scrisse diverse annotazioni sul testo delle Colombe. In ogni caso, agli inizi del 1611 Francesco Sizzi, a cui ha scritto delle cose molto nuove anche sulla biografia di Michele Camerote, pubblicava un piccolo trattato che si chiamava Vianoia Astronomica Optica Fisica in cui con argomenti tratte dalle sacre scritture attaccava le scoperte astronomiche di Galileo. Sizzi si scagliava soprattutto contro l'esistenza dei streghi di Giove, citando l'autorità della Bibbia sul numero di pianeti esistenti, ma Sizzi chiamava in causa anche il sistema copernicano, senza fare polemiche, visto che lui è negli Stati Uniti, ma chiaramente Biagioli questo testo non l'ha letto, perché sostiene che non si faccia mai riferimento in questo testo al sistema copernicano. Infatti, ecco cosa scrive. La nuova scuola di astronomi, ovviamente di cui devo parlare, che sostengono che la Terra non è immobile, ma è dotata di movimento, e che tutti i pianeti si muovono intorno al Sole, se questo non è copernico. E l'altro passo, per me è ancora più importante, attribuiva esplicitamente a Galileo la teoria e la tesi della mobilità della Terra. La Terra è dotata di movimento come vuole l'autore del Siderio Sinuncius. Una frase che dimostra senza dubbio che Sizi aveva colto benissimo l'implicazione copernicane del Siderius, molto di più di certi interpreti. Queste testimonianze ci fanno dunque capire non solo che Galileo era considerato un copernicano, ma che il copernicanesimo fu subito osteggiato, anche con motivazione di carattere teologico, vengono opposte ad argomenti astronomici passi biblici. Queste testimonianze contenevano quindi in luce il conflitto tra scienza e fede che pochi anni dopo avrebbe opposto Galileo alla Chiesa. Comunque, alla fine del 1610, nessuno poteva dubitare dell'adesione di Galileo al sistema copernicano. Comunicando a Christoph Scheiner, il vecchio matematico gesuita del collegio di vita romano, la sua scoperta delle fasi di Venere, 30 dicembre del 1610, scrive Ora eccoci, signor mio, chiariti come Venere va intorno al Sole, centro senza dubbio delle massime rivoluzioni di tutti i pianeti. Inoltre, siamo certi come essi i pianeti sono per sé tenebrosi e solo risplendono illustrate dal Sole e come questo sistema dei pianeti sta sicuramente in alta maniera di quello che si è comunemente tenuto. Le fasi di Venere analoghe a quelle della Luna non potevano essere in accordo con l'astronomia aristotelico-tolebaica poiché la loro osservazione attraverso il telescopio dimostrava che il planeta ruotava intorno al Sole attraverso appunto le fasi che mostrava. Ovviamente il fenomeno era compatibile non solo con il sistema copernicano ma anche con quello ticonico ma per Galileo il sistema di Tico era soltanto un compromesso matematico senza alcuna possibilità di giustificazione fisica secondo Galileo il fenomeno delle fasi di Venere era un'interiore conferma della verità del copernicanismo. La scoperta delle fasi di Venere insieme all'osservazione della forma tricorporea di Saturno chiude un ciclo di straordinarie scoperte che Galileo aveva inaugurato nell'autunno del 1609 e fu anche per dare risalto a queste nuove scoperte che aveva deciso di pubblicare una nuova edizione del Sireus. Il progetto era venuto in mente a Galileo addirittura una settimana dopo la pubblicazione del Sireus poiché le 550 copie del libro come aveva scritto appunto al segretario di Stato del Salio Vinta erano subito andate a rumore. Galileo pensava all'edizione più ricca della precedente accresciuta di nuove osservazioni celesti con bellissime figure dell'intero ciclo umane e con molte immagini sono sui parole celesti con tutte le stelle che veramente ci sono. La nuova edizione peraltro doveva essere in volgare non in latino come appunto quella del 1611. In giugno il progetto si stava ampliando ancora di più. Il libro avrebbe dovuto contenere tutte le obiezioni e dubbi degli avversari insieme alle risposte di Galileo affinché come studiava sempre vinta nessuno possa avere vinta. Nel frattempo i miglioramenti che aveva portato al telescopio gli facevano sperare di inserire altre scoperte. Così alla fine di luglio confidava vinta la sorprendente configurazione di Saturno e pregava vinta di non divulgare la notizia finché non la pubblicherò io nell'opera che ristamperò cioè una ristampa del Siderius. In agosto il progetto si complicava. Su suo amico Sertini che a Firenze avrebbe dovuto occuparsi della ristampa informava Gaileo che Sizi che abbiamo citato stava scrivendo un trattato contro le sue scoperte. Nella nuova opera inoltre Gaileo intendeva rispondere ai dubbi sollevati dalla dissertazione di Cheplero che rischiavano di essere presi dai suoi oppositori. In tintesi il progetto originario con il passare del tempo si modificava sempre di più tanto che la ristampa cresciuta del Siderius si stava trasformando in un altro libro con una struttura completamente diversa. Il risultato fu che Gaileo progressivamente abbandonò del tutto il progetto. A tal punto che anche il prestante invito di Federico Cese il fondatore dell'Accademia dei Lincei e sponsor di Gaileo a Roma cadde nel voto. Una delle ragioni che spinsero Gaileo ad abbandonare il progetto di ristampare il Siderius fu indubbiamente la pubblicazione nel 1611 della dioptrice di Kepler nella prefazione alla dioptrice Kepler aveva infatti preso note sia la scoperta della forma tricorporea di Saturno sia quella delle fasi di Venere facendo così perdere alla ristampa del Siderius il senso di novità che le scoperte avrebbero dato a essa. Come sapete sia la scoperta delle fasi di Venere sia quella della forma tricorporea di Saturno erano state inviate a Kepler sotto forma di anagrammi e Kepler aveva cercato in tutti i modi di interpretare questi anagrammi senza riuscirli poi quando Gaileo scrive all'ambasciatore toscano a Praga Giuliano De Medici che gli manda le soluzioni giuste queste lettere e Kepler facendo un po' arrabbiare Gaileo per la verità ma questa è un'altra sorta le pubblica nella prefazione del testo la dioptrice il primo testo in cui si trova una spiegazione una dimostrazione geometrica del funzionamento del telescopio ma fu soprattutto la scoperta delle macchie solare a convincere Gaileo che occorreva scrivere un altro libro era necessario un libro interamente dedicato al sole per far risaltare il valore di questa nuova e straordinaria osservazione telescopica Gaileo pubblicò il libro sulle macchie solari nel marzo del 1613 in seguito alle polemiche con Christoph Scheiner un altro gesuito gesuita sulla priorità della scoperta e sull'interpretazione della natura del fenomeno il libro usualmente chiamato lettere sulle macchie solare aveva un titolo significativo storia e dimostrazioni intorno alle macchie solare non solo quindi un libro di storia ossia un semplice resoconto di fenomeni come era stato il sirelio ma anche di dimostrazioni di filosofia cioè di ragioni necessarie e concludenti che hanno il compito di spiegare la vera costituzione dell'universo poiché secondo Gaileo sue parole tal costituzione è ed è in un modo solo vero reale ed impossibile ad essere altrimenti Gaileo non aveva dubbi la vera costituzione dell'universo era quella copernicana già nella prima lettera Gaileo sottolineava come le fasi di venere che aveva scoperto prima se parole con assoluta necessità conchiuderanno conforme all'epodizione dei picagonici e del copernico il suo rivolgimento esser intorno al sole intorno al quale come centro delle rivoluzioni si aggirano tutti gli atti che ne mi viene da ridere che quando leggo se lo fa penso sempre a il nostro collega che è anche un amico buono settino chiaro che lui diceva che queste cose non sono delle esplicite diciamo così affermazioni di copernicanese c'è una cosa fatta con il notario e nella terza lettera Gaileo ancora con più energia afferma ai molto periti della scienza astronomica bastava l'avere inteso quanto scrive il copernico nelle sue rivoluzioni cioè nelle rivoluzioni fosse per accertarsi del rivolgimento di Venere intorno al sole e della verità del resto del suo sistema in polemica con Scheiner Gaileo sosteneva che le macchie solare erano nuvole analoghe alle nuvole terrestri che si aggregano e si disgregano di continuo creando movimenti irregolari e come tale erano diverse le macchie dei satelliti di Giove che virgolette sono stelle vere e reali permanenti e perpetue hanno i loro moti irregolatissimi e i loro periodi certi secondo Gaileo parole sue le macchie solari hanno un massimo e comune ed universal moto col quale uniformemente ed in linee tra i loro parallele vanno discorrendo il corpo del sole dei particolari sintomi del quale movimento si viene in cognizione prima che il corpo del sole è assolutamente sferico secondariamente che egli in se stesso e circa il proprio centro si raggira portando seco in certi parallele le rette macchie e finendo una intera conversione in un mese lunare circa con un rivolgimento simile a quello degli orvi deteneti è una delle prime affermazioni sul moto diciamo così del sole intorno al suo plato per spiegare il moto di rotazione del sole che Eleo usava un'argomentazione fisica ve la leggo dice come gli stessi gradi al movimento orizzontale al quale non hanno inclinazione poiché non è verso il centro della terra né repugnanza non si allontanano dal medesimo centro e però rimossi tutti gli impedimenti esterni un grave nella superficie sferica e concentrica alla terra sarà indifferente alla quiete e ai movimenti verso qualunque parte dell'orizzonte ed in quello stato si conserverà nel quale una volta sarà posto così sottolineava Gaileo il sole corpo di figura sferica su parole sospeso e librato circa il proprio centro non ha egli a tal conversione intrinseca repugnanza né impedimento esterno era la prima volta che Gaileo in un'opera a stampa formulava il suo principio di inerzia utilizzando anche l'esempio della nave che poi diventerà celebre nel dialogo sopra dei massimi sistemi del mondo e così questa è una frase citata dall'istoria e dimostrazione intorno alle macchie solare e così una nave per esempio avendo una sola volta ricevuto qualche impito per il mar tranquillo si muoverebbe continuamente intorno al nostro globo senza accessare mai e posta di conquiete perfettamente inquieterebbe se nel primo caso si potessero rimuovere tutti gli impedimenti estrinseci e nel secondo qualche causa motrice esterna non gli sovraggiungesse tutto ciò avveniva non in un trattato di meccanica ma in un'opera astronomica nelle lettere sulle macchie solare o storia e dimostrazioni intorno alle macchie solare come il titolo più corretto Gaileo non solo dichiarava pubblicamente la sua esplicita e definitiva adesione alla realtà fisica della cosmologia copernicana ma stabiliva anche una connessione inscindibile tra cosmologia e meccanica proponendo una filosofia naturale diversa e alternativa rispetto a quella tradizionale tutti elementi insomma che fanno delle lettere sulle macchie solare il primo testo di filosofia Gaileiana un'opera cioè in cui la grande sfida di Gaileo di fondare una nuova scienza del moto sulla nuova costituzione dell'universo trovava la sua prima e matura forma di applicazione non sorprende quindi che alla fine del 1613 poco dopo cioè la pubblicazione dell'istoria il copernicanesimo diventava una questione importante nel dibattito pubblico costringendo Gaileo a difendere se stesso il sistema copernicano non solo dalle critiche filosofiche e astronomiche ma anche da quelle che mettevano in discussione la plausibilità teologica del copernicanesimo questa però come sol dirsi è un'altra storia grazie della della scuola sempre rispettabile parlato troppo poco il giusto parlato troppo poco anche perché la situazione è 45 ma la situazione è 31 ma io ma io ho calcolato la discussione no ma la situazione c'erate 15 e ragazzi forse domande domande lunghe che risposto è una cosa è una cosa e anche con l'ambientale anche con l'ambientale anche con l'ambientale anche con l'ambientale si dice che sarà meglio questo però è strano perché l'ambientale dovrebbe essere cerchiamo di non cerchiamo di non soltanto tempo con queste cose con queste cose la questione la questione è due intanto negli scritti prima del Siderio in particolare nel di Beniglia rispetto a questo collegamento tra la meccanica e la cosmologia non tanto nel di Beniglia che a me per certi versi sembrerebbero oscuri rispetto a questa questione qua se magari eh no qualche spunto perché dopo li stavo rileggendo mi potrebbe magari capirci qualcosa e invece la seconda questione che sinceramente mi ha portato da anni non riesco a vedere ma perché lui continua a vedere la scoperta delle fasi di Venere una strettissima prova copernicana sapendo che poi magari non è sistematico in qualche modo essere anche giustificata o rivista eccetera io cioè è proprio una cosa che non mi vale insieme giù e allora mi piacerebbe proprio sentirlo una risposta perché così magari mi farebbe molto molto comodo grazie comunque per te è stata utilissima allora per quanto riguarda la questione di Juvenilia questa è la solita e questo riguarda anche il democo diciamo sono testi molto molto complessi anche da un punto di vista diciamo così strettamente cronologico questa definizione juvenilia anche a vedere con tutta la serie di questione che lei affronta diciamo così sì anche lì c'è questo legame volendo anche nel demoto adesso vado a memoria c'è una parte in cui lui confuta se non ricordo male un'argomentazione sul moto di di Aristotele sul punto di quiete e mi sembra a Michele che citi un passo diciamo così della rivoluzione proprio nel demoto però sono testi in cui ancora non c'è è difficile trovare anzi secondo me sono testi detto questo però anche lì c'è un discorso che fa capire come l'interesse cosmologico non è mai disgiunto da quello del moto sia che il punto di riferimento sia tolomeno sia che sia coperrico per quanto riguarda invece la seconda domanda Gaileo non ha il ben che minimo dubbio cioè per Gaileo il sistema ticonico non è un sistema diciamo così cosmologicamente rilevante per tante ragioni anche perché per lui è semplicemente come ho detto una questione di prospettiva ottica e di come si dice di carattere matematico un'ipotesi matematica e il sistema ticonico non riesce a spiegare tutta una serie di cose che invece il secondo lui il sistema copernicano spiega c'è anche un'altra questione il sistema ticonico è un sistema che non riesce a spiegare la differenza che quella che non esiste ancora un sistema basato sulla differenza ontologica tra mondo celeste e mondo terrestre ovviamente questo c'è anche in copernico però è una cartellettura di copernico porta a vedere come quello che viene chiamato mondo terrestre e mondo terrestre appartengono alla stessa configurazione cioè Galeo si può leggere diciamo così il dialogo una lettura interessante il dialogo che in realtà si confronta il sistema copernicano con quello tolemaico ma in realtà è tutta una demolizione di tutti gli argomenti di tico che vengono fatti contro l'ipotesi del mondo terrestre quindi ecco per per Nero lì non è un problema lo sa benissimo ma quello diventa poi una questione che riguarda i gesuiti che appunto proprio dopo questa scoperta si convertono al sistema ticonico ma anche una questione che riguarda come quel sistema per lui non riesce a spiegare la sua nuova concezione del moto eccetera eccetera è un sistema regressivo rispetto a quello di governico secondo Galileo cioè non l'ha mai preso come un grande rivale diciamo così infatti chiamerà anche se poi gli argomenti altre domande abbiamo soltanto più di 20 minuti no no io ho fatto qualche domanda ma io volevo chiedere una riflessione un po' più dettagliata sul problema che ci dà molto spesso della famicane della tecnologica allora in breve passa la storia sostanzialmente per il grande pubblico per il pubblico molto per il suo dialogo sui massimi sistemi la piura il suo meccanismo testato spesso anche non ben argomentato perché poi abbiamo scoperto di molte cose che vi aveva detto sono altre cose rivelate false il suo rubato dell'armina passato passato insieme della cultura formolare perché quello formolare si stava più tra la cultura dell'elite soprattutto per questo aspetto noi sappiamo che fino dai tempi di Pisa in realtà ha riflettuto a partire dal Chimede meccanica appunto che negli anni padovani ha fatto tantissimi esperimenti e progressivamente quindi nell'opera sulle macchie solari già il dialogo tra aspetti micanici e aspetti cosmologici molto forte lo sarà ancora di più di fatto un bellissimo dialogo sui massimi sistemi e alla fine in realtà opera pure i discorsi che avrebbero di accordo che siamo nel lavoro della vita e che quella di fatto da più qualche rango gli altri che è l'opera su cui grandi fisiche dopo Galileo si appunteranno ben più che sui massimi sistemi discorsi sono l'opera che ha reso il montale come fisico Galileo non solo come cosmologo ecco allora sono molto molto curioso di capire come mai lui ha identificato così tante energie a questo che è in canesimo sottraendole a quella che in realtà è il grande cioè non so come dire c'è un grande contributo per il progetto di politica della scienza ma c'è un immenso contributo distribuoso nel dettaglio diciamo delle opere di meccanica che è una meccanica statica in canesimo scorsi non so vorrei capire meglio ho capito 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 questa è una vecchia questione sostanzialmente allora Galileo intanto secondo me è sempre importante capire il contesto in cui uno opera il contesto in cui opera Galileo è un contesto che viene percepito in un determinato modo da lui come a problematico anche se si avviene subito che ci sono delle cose che non tornano già da questo clima che ho fatto vedere io a a Firenze e di tutti questi che iniziano a scagliarsi contro il sistema copernicano con argomentazioni religiose cioè che non è che come diceva prima Flavia uno diceva beh ma secondo questo passo di Copernico questa osservazione di questa osservazione di Tico diciamo così non funziona no le obiezioni che vengono fatte sono obiezioni di carattere diciamo così teologico religioso si cita un passo dei salmi piuttosto che Giosuè 10 12 13 eccetera quindi si trova in una situazione di difficoltà perché queste obiezioni gliele fanno accorte la farla quando che sa quando che sa quindi lui ha questo tipo di problema a cui rispondere scienziato cattolico che viene sfidato quindi lui a un certo punto cerca di risolvere la questione quello che tu chiami dibattito con con Bellarmino e nelle tue parole si percepisce quasi un modo alla di percepire questo dibattito che è fuorviante perché tu puoi dire oggi che Galeo alcune cose aveva tolto ma gli altri quali argomenti migliori avevano di lui sulla questione europeanicana oggettivamente adesso uno legge quel dibattito come se Bellarmino fosse un raffinatissimo epistemologo e Galeo un povero Cristo che praticamente con poche osservazioni voleva gli altri non avevano nulla cioè era incontrovertibile che il sistema basato su due mondi divisi ontologicamente non rigeva alla prova dei fatti con l'osservazione dei fenomeni che tutti si accorgono di questo fatto qua le fasi di Venere dimostravano che sostanzialmente che non si vede l'occhio nudo col telescopio chiunque ogni copernicano prima quando eravamo in macchina pensavo a questa lettera bella di Castelli che gli scrive e gli dice allora se ha ragione Copernico il nostro Copernico Venere dovrebbe essere cornuta se dovrebbero venere le fasi allora perché ha dedicato voi tante energie perché a un certo punto per lui diventa una questione decisiva decisiva non solo in merito alla sua meccanica del moto cioè vuol dire quella meccanica non può reggere in un sistema geocentrico ma anche perché vuol dimostrare l'infondatezza il testo del dialogo è importante non soltanto per la questione è vero è un testo che lo si può considerare divulgativo il dialogo ma è una grande critica di tutta la fisica di Aristotele non soltanto della cosmologia aristotelica quindi secondo me è un grande importante contributo nel dibattito nel dibattito di quegli anni non a caso se voi andate a guardare la corrispondenza nei circoli di Cartesi o Mersenne e tutto poi è vero un altro tipo di dibattito viene dai discorsi ma quelli li pubblica dopo anche se risalgono a molto a ricerche patavine diciamo così però il vero motivo è questo che quel contributo è fondamentale non soltanto per la bidonica se hai cercato la diura Galileo o la condanna però l'operazione che fa è un'operazione di carattere di politica culturale ma anche un'operazione concreta di smantellamento di quelli che sono i presupposti di una fisica che dobbiamo immaginarci un bongo in cui ancora nel 1661 Newton arriva al Trinity College e lui il manuale di riferimento è un manuale scolastico dove gli insegna la cosmologia e la fisica di Aristotele quindi non lo so quanto fosse di retroguardia se qualcuno mi vuole intervire la tele grazie grazie di questa splendida presentazione non avevo mai pensato a questo collegamento effettivo questi sentieri paralleli di meccanica e cosmologia in Galileo mi veniva in mente che un collegamento appunto a proposito di diciamo un collegamento tra la meccanica e la cosmologia di fatto in Galileo diventa questo piccolo strumento che fa da mediatore tra l'oggetto osservato e l'osservatore e quindi il telescopio e che diventa il bersaglio di attacco di praticamente degli oppositori perché questo oggetto è un artificio qualcosa che si frappone tra la visione che poi è la prima volta se diciamo se ecco detto con le mie limitate conoscenze diciamo della storia antica ma è la prima volta che c'è uno strumento viene utilizzato scientificamente uno strumento per la mediazione cosa che invece oggi è assolutamente le sensate esperienze nel senso esperienze che passano per i sensi sono ben lontani ormai l'osservazione del cosmo è mediata da ben diciamo ordini e ordini di strumentazione che diciamo e non sono ma poi ci sono i modelli che consentono di interpretare quello che non è una sensata esperienza che passa per i sensi ma che sono segnali che altrimenti non vedremo senza uno strumento quindi una complessificazione enorme però a partire dal pesticidium in pratica in un certo senso sì guarda grazie la domanda allora la sensata esperienza anche perché Eleo non è l'esperienza proprio sensibile nel senso che quello che si vede col telescopio col cannocchiale è una cosa che va interpretata non è così evidente e infatti quello che dici tu è così vero che la prima campagna diciamo così che Eleo deve combattere non è tanto quella che viene di conseguenza di dimostrare la veridicità delle sue scoperte ma di dimostrare che lo strumento sia qualcosa di attendibile cioè che non sia ma grandi astronomi dell'epoca come Giovanni Antonio Magia all'inizio pensano che lo strumento sia una forma di aberrazione di allucinazione ottica cioè perché non sono abituati perché lui aveva osservato con delle lenti colorate le lenti colorate gli eclissi per non danneggiarsi gli occhi e siccome vedeva dei barbagli diceva che Eleo quando lui va a Bologna il 25 di aprile del 10 guardano vedono le stesse cose e quelle lucine che per Eleo sono i satelliti per loro sono dei riflessi della luce sul vetro quindi questa è una una delle prime grandi conquiste cioè quello lì è l'unico è il primo in Europa a poter capire e quando viene nella dissertazione sto parlando di Keplero senza aver ancora visto perché non ha ancora un buon cannocchiale le scoperte di Geileo dice che Geileo sicuramente le ha viste che il telescopio funziona perché è l'unico che oltre ad essere un astronomo è anche un grande studioso di ottica e infatti l'anno dopo ha cominciato prima pubblica la Diofice dove con tutta una serie di dimostrazioni lui che aveva studiato metà lipomena a Dettelione di diverse forme di lente è in grado di capire che mettendo insieme combinate una lente concava e una lente di convessa può generare un effetto di magnificazione e non di distorsione visiva quello è come si dice un tratto ma su questo abbiamo scritto un libro davvero molto bello che l'ha citato non lo dico ah no sto scherzando no è il libro ok allora eccolo qua non chiedo di non so se c'è del vostro agito cioè perché da casa mi dicono che sentono un vigino ma ci stiamo un vino un vino quello che è venuto perché credo che si senta questo intervento adesso io non sono uno storico della scienza però occupandomi di filosofia della fisica quindi Galileo per me è un punto di riferimento fondamentale e secondo me è il momento in cui si passa da una concezione dove la fisica diventa una nuova metafisica con Galileo ma soprattutto si passa dall'idea che mentre prima si era concentrato su una realtà dell'oggetto da Galileo in poi c'è l'idea appunto di una realtà di ciò che possiamo prevedere quindi delle proprietà quindi un realismo delle proprietà Galileo è antelitero secondo me non storica ma una forzatura il primo sostenitore del realismo delle proprietà però veniamo al punto che mi è piaciuto cioè il fatto che cioè Galileo è vero che recepisce il copermicaneo vabbè dicevo Galileo ha propagandato il copermicaneo ma il punto fondamentale è che nel Siderio questo lo dice lui e quello era andare in fondo contro le autorità della Chiesa due passi di Josue però il punto fondamentale è che nel Siderio lui scopre tutta una serie di evidenze che mette in discussione la distinzione tra la sostanza cristallina e terea incorruttibile ci sono le macchie solari ci sono i crateri lunari i pianeti di Giove gli anelli di Saturno c'è tutta una serie di evidenze e questo porta veramente a uno svolto fondamentale della fisica che è l'ideale che poi caratterizza tutto lo sviluppo della fisica che è lo sforzo di unificazione che poi avverrà con Max su duecento anni dopo Newton certamente non porta compimento formulando la famosa legge di gravitazione però questo è già intuito da Galileo quindi lui vero contributo per cui la battaglia sui due fronti uno contro le scritture l'altro contro l'aristotel che non sono proprio la stessa cosa da un lato c'erano le filosofie aristotelici quindi si trattava di mettere in discussione quella fisica delle essenze la teoria dei morti naturali i corpi pesanti che cadono quelli leggeri che danno in su quelli che devi spingersi non si muovono e tutto i corpi celesti che adesso si muovono in modo circolare quindi tutto quell'elemento entra in discussione che dice no non dobbiamo più tentare le essenze ma limitiamoci ai fenomeni che i corpi hanno tutti la stessa natura e lì c'è l'unificazione però il passaggio si coglie dal fatto che il suo bracciare il copermicanesimo lo porta poi a questa unificazione che è forse il vero grande contributo che Galileo dà alla nascita della scienza ma questa idea qua questa idea che tu hai detto è vero è un filoso però c'è anche detto prima anche il copermico poi inizia il contesto per la prima volta c'è il copermico c'è l'astronomia nuova di Kepler la fisica celeste vuol dire bello non esiste una fisica che funziona soltanto per il mondo celeste poi ovviamente nessuno riesce fino a quel momento a trovare una legge che riesca a unificare il comportamento dei corpi celesti e dei corpi terrestri ma l'idea di fondo e questo della cosmologia e della meccanica che sono unificate quindi che esiste un'unica meccanica dei molti celesti e dei molti terrestri questo è una cosa che è un filo rosso e che a Leone secondo me fa una grande battaglia anche in questa prospettiva certamente il suo grande contributo è di carattere all'inizio diciamo così possiamo detenirlo empilico fenomenologico perché si scopre nuove evidenze che attestano questo patoguardia quando si dice che la Luna ha una morfologia è una situazione fisica diversa rispetto a quella di quello che si sa vedere praticamente ha la stessa configurazione della Terra ciao non si vede molto non si vede molto esatto non si vede molto e come si dice si pensa se il locale però fa vedere delle aberrazioni a quel punto si può negare anche questo quello è una cosa essenziale cioè è difficile per noi oggi cogliere queste cose qui perché ovviamente sono secoli di passaggio ma a fare una affermazione del genere significa mettere in discussione una configurazione del cielo e a fargli vedere il cielo come nessuno prima l'aveva mai visto e percepito non è una cosa per millenni le persone hanno visto il cielo in un determinato modo con un limite anche un l'orizzonte ottico che è fermo a quello che si può vedere con l'occhio che invece lo strumento questo cilume che praticamente allarga l'orizzonte oltre i limiti di visibilità naturale ma quello che dicevi io faccio solo una nota sulla legge di effetti la terza legge di Kepleno sfiora quasi la gravitazione ci manca no ma io non parlo soltanto della della legge che Kepleno non offre diciamo così una spiegazione con le sue tre leggi no quella lì la terza legge dell'altro delle luce in un'altra opera del 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 dell'armolice mundi ma l'idea fondamentale è che per loro la separazione tra mondo celeste e mondo terrestre non esiste esiste un'unica fisica che riesca a spiegare i fenomeni terrestri e i fenomeni celestri sono tutti copernicani è un'idea che arriva da copernico ma in fisica e matematica basta sostituire metterci le masse dei pianeti la terza legge del terreno che in la gravitazione quindi anche formalmente è molto vicino la terza legge che coprono aree uguali intenti uguali sì ma anche adesso non posso qui ti mando un articolo perché c'è una cosa interessante che io ho studiato nel dialogo e anche nei discorsi si inventa un discorso diciamo così cosmogonico che attribuisce a Platone e quello qui arriva tramite Bentley anche a Newton è l'esempio che fa Newton sul moto della luna sulla legge di realizzazione universale è ripreso da questa idea qua che si immagina la luna e pede come dei gradi che possono cadere sulla terra per dire un'altra grandissima intuizione su questa idea che ha Galileo di come si possono confrontare e raffigurare i fenomeni felestri contro i terrestri se non voglio stiamo andando sapevoli grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi